Io ieri ho partecipato all'assemblea di Confcommercio e all'assemblea di un'industria della mia provincia, la provincia di Como, una zona, quella dell'Abrianza, da sempre fatta da più produttori, ricca produttiva, ha sempre rappresentato la spina dorsale economica del nostro paese. Si è buttata a sinistra però, poi ci arriviamo. Due sindacati tendenzialmente filogovernativi, in base a chi governa, e vi posso dire che il grido d'allarme lanciato non solo dalle associazioni di categoria, ma dagli imprenditori, dai commercianti stessi, ripeto, associazioni filogovernative, quindi Confindustria ha detto sosteniamo il referendum costituzionale, è stato allarmante. Per due motivi. Primo, perché il mercato interno ristagna, i consumi sono bloccati, i cittadini non spendono e attenzione, il nostro paese ha vissuto sopperendo a questa stagnazione interna, soprattutto sull'export. E l'export purtroppo soffre di problemi importanti. E' notizia di ieri, c'è presente la Morani che sostiene questo governo, ieri si è deciso in maniera folle e assolutamente irresponsabile di rinnovare le sanzioni alla Russia, tra l'altro rinnovate non dalla politica ma dagli ambasciatori, è ancora più grave, quindi il tecnico, il diplomatico e non il politico che decide di rinnovare queste sanzioni che sono la morte del sistema economico, però non sento la voce, sì ma non sento il governo che picca e punta in Russia, ma sono state rinnovate. Allora, siamo d'accordo che quelle sanzioni correlative in embargo da parte della Russia sul sistema economico, su alcuni prodotti di eccellenza del nostro paese, sono un dramma. Il nostro paese ha una grande qualità, che i nostri imprenditori sono bravi, capaci e abbiamo un prodotto, il Made in Italy, che è un'eccellenza che tutto il mondo ci invidia. Lì dobbiamo investire, lì dobbiamo spendere risorse, ed è lì nel momento in cui noi chiediamo un'Europa diversa rispetto a quella di oggi, senza fare catastrofismi, senza lanciare allarmismi, ma chiedendo un sistema europeo che tutela il lavoro, che tutela il piccolo, che tutela l'artigiano, i commercianti, che tutela chi produce e non solo chi consuma. Questo è il cambio di passo che noi vorremmo e che purtroppo vediamo un governo che si elogia dietro gli 80 euro, la pressione fiscale aumenta, la CGA di Mestre, non la Lega Nord. L'altro giorno ci ha ricordato che la pressione fiscale in Italia è ancora la più alta in Europa, al 43%. Peggio ancora, la total tax rate sulle nostre imprese è altissima, va oltre il 60% del motivo per cui tanti imprenditori nostri cosa fanno? Delocalizzano, vanno in Carinza, vanno in Aspio, vanno in Svizzera dove ci sono sistemi economici, pressione fiscale più bassa.